Buongiorno ragazzi, bentornati su Rainbow, oggi ci troviamo nella mappa della casa, veramente spettacolare, siamo però di notte E ho preso l'operatore Jäger, oggi poi voglio anche andare a prendere il cecchino, ovvero Glatz, così vi faccio vedere Spawn Kill, non si sa, vabbè, lasciamo perdere, così vi faccio vedere un po' il nuovo Glatz, perché hanno chiaramente sistemato l'ottica di Glatz E adesso non si vede più male come si vedeva prima, ma si vede nitido, pulito, come si vede con qualsiasi altro operatore Il pallino blu che c'è non influisce più di tanto sulla visuale, io però avevo visto i nemici in una partita solamente Porca vacca, è arrivando? Solamente la sagoma avevo visto, non so se si era buggato qualcosa o che altro Però in una partita, anzi in un round, avevo preso Glatz, qui scusate un po' questa indecisione mia, ma non sapevo che cavolo fare Perché magari se hanno un fucile a pompa mi distruggono subito lo Jäger Qui c'è qualcuno, o no? Boh, no, comunque chiudiamo Comunque si, avevo visto soltanto Maledetti Aspettate, a fermi tutti No, aspettate Questo è Buck dal rumore Cosa? Ah Veramente? Cioè, è la prima volta che mi uccidono in questa maniera A meno che la mia memoria non faccia schifo come al solito, ma non ero mai morto da là Sapevo che quel muro si poteva distruggere, perché l'ho sempre distruggito anch'io Però da là, nelle scale, speravo che non mi avesse visto Vabbè, 1.4, rip Te li posso... Dai, avanti 1.3 1.3 1.3 sotto e giù per le scale 1.2 Occhio lì nelle scale Te l'individuo Te l'individuo Quel Buck, porca vacca Vabbè, rip Che cavolo fai con la pistola? C'è da dietro? Eeeh, niente da fare Ed eccoci qua, secondo round Come vi ho detto prima Subito con glazza Distruggito Voi raga le telecamere? Ok, passo io Come non detto Vedete? Vedete che non è più così incasinato il mirino Ma si vede molto, molto meglio Perché vi stavo dicendo prima appunto Che vedevo la sagoma del nemico di giallo Però il nemico non lo vedevo di giallo E non so che cavolo è successo Magari è perché è così tanto nuovo Non lo so Ok Uuuuh Guardali Stantino E dall'altra parte Allora adesso fatemi controllare il corridoio Perché se almeno qualcuno push Qua nessuna telecamera Ok Andiamo calmi Qua garantito Qualcuno me lo faccio Ottimo Eccolo Fatto perfettamente Perforazione Attacco dall'alto Bonus Ottica mobile Sono stati individuati Ottimo Non hanno distrutto Vabbè Meglio così Secondo round Portato a casa Guardiamoci un attimo Dove gli hanno fatto L'headshot Stavano entrando Dentro lo stanzino Bene Ed eccoci qui raga Punteggio in parità Con pulse Allora Prima Buck mi spare Che avesse lasciato da là Quindi la chiudo Qua c'è un drone Chiudiamo anche qua E in pratica Si Non è che sono proprio In formissima Oggi Quindi vediamo Che cavolo è Arrivano già qua Ok Un drone Questi hanno Una tattica strana Raga Allora Entrate da là Mi avete ucciso di qua Vi ripago con la stessa Moneta Maledetti Entrate Avanti Cosa pensate Di uccidermi due volte Così Non hanno capito nulla Questi raga Dov'è che siete È là Ok Entra avanti Garantito Ne faccio fuori uno qua Me lo sento Vacca vacca Vai amico mio Spara Ottimo Adesso uno dovrà Pushare dentro Eccolo 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 E andiamo Con Thermite Ok C'è ancora Toucher No 5-2 Toucher Ancora in vita Eccolo C4 C4 Per fortuna Abbiamo vinto Andate sul sicuro Raga Non fate Esplodere i nemici Come dei mini ciccioli Sparategli E basta Fate prima E adesso ragazzi Ibana Sì Quell'azione di prima È stata un po' Da polli Voler andare per forza Con il C4 Cioè Anche no Allora Toucher L'hai già sparato Spostati Termite Quello ha distrutto il coso Però il mio Ibana Funziona alla stragrande E il punto di Ibana Si è fatto Allora Distruggiamo anche quel pezzettino Là Mi dà un po' fastidio Muy bien Che cavolo mi distruggi Bellissimo Ottimo 3-3 Porca vacca No Porca vacca 2-3 Quel bandit là Deve morire immediatamente Porca vacca E te Dov'è chi è? Subito qua Immagino Difatti La vedo tosta qua raga Non la vedo difficile Qua chi è che Vabbè Come lo metto Un operatore alleato Porca vacca Raga Guardalo lì Sì Vabbè Sì Vabbè Non esco manco a fare Un cavolo di headshot Questo Usirà Ti senti forte Da guardare Attraverso il mira E poi uscire così Ti senti forte Bravo E adesso Difendiamo Il garage Questa volta Ho voluto prendere Echo Perché anche con Echo Raga Hanno fatto Di piccoli cambiamenti Ovvero Adesso puoi Come si dice Stunnare I nemici Tramite Qualsiasi parte Del corpo Cioè le stordite Prima era soltanto In testa Dovevi beccarle In testa Adesso invece Con il drone Basta che guardi Qualsiasi parte Del corpo Di un nemico E immediatamente Lo stordisci Quindi Facciamo che Tanta roba Adesso Io qui Quasi quasi Salirei Fino in bagno Sperando che questi Non mi freghino E prova a fare Un piccolo Trip Spawn Lo vedo male La rischiamo Sul due pari Chi non rischia Non rosica No Chi non rosica Non rischia Vabbè Quella roba là Che nessuno C'è dentro Un buco Ah Ecco Perché c'era Il buco E ci sono Cascato Come Un Pollo Sì ma Dalla sua visuale Ma ha visto Un quarto d'ora Prima Io sono uscito Neanche un secondo Ma che cavolo 3 contro 5 Hanno aperto Tutto Mi sa che tutto qui Ha un rip Generale 3 contro 4 Ma dove cavolo va Ma se c'è Non ci va Ma che cavolo Ha aperto Dietro La tattica Proprio Non l'ho capita Adesso L'hai chiuso 2 contro 3 Qui c'è Twitch 1 contro 3 E Ecco I che entrano Tutti E il rip Generale Eccolo qua L'hanno massacrato Come non so cosa Guardate Da ogni direzione Sono arrivati E adesso Nuovamente Con Glatz Siamo Un po' messi in maluccio Perché non possiamo Assolutamente Perdere Proviamo Volevi Uccidere Il mio compagno Di squadra Maledetta Valkyrie 5-3 Ottimo Mi sa che questa volta In questo rando Siamo noi a fare Un rip Generale I nemici Allora Giochiamocela Intelligentemente Raga C'è nello stanzino Uno O due Nello stanzino Due mi pare Nello stanzino Jäger E un altro C'è lì Guardali lì No Finiti i colpi Lì Avanti così Bene Magari Potevo Rascarmela Violentemente Però magari Ci rimanevo secco Ma È andata meglio Così Punteggio in parità Torniamo A difendere Sopra Con Newt E ve l'ho detto Oggi La mia prestazione Non è Nulla di che Cioè Nella media Generale Di chiunque Giochi Cioè Nulla di che Nulla di Di meno Cioè Proprio È un po' così Devo assolutamente Riparmi Ottimo Iniziamo Assolutamente In svantaggio 4 contro 5 Allora Ripariamo qua Sì Almeno Se qualcuno Si vuole Non scoprire Non sono Anzino Con me Ok Ok Sono andati sul tetto Almeno è tranquillo Cantiere a posto Qua c'è qualcuno L'ha nascosto Che lo sento Qua dronano Però tanto Di là C'è tutti i gemmer Quindi non passano Sentite che casino Che fa sul legno Il tipo Sarebbe Intentato Di uscire Eccolo Che si è droppato Il maledetto Eccoli Maledetti Avanti Avanti Esci Vai Headshot A destra Ok Nitro in posizione C4 Ultimo attaccante Rimasto in vita Fermi Pensavi Maledetto Twitch Che non ti avessi sentito Pensavi Che capito Delle strato Sferiche Maledetto E come Ultimo round Sfoderiamo Montagne Montagne Ebbene Sì ragazzi Andiamo Con Come si dice Raga Cavalleria Pesante Avanti Utilizziamo Anche Un po' Fumo Così non vedono Assolutamente Nulla 3 2 1 5 4 Con la Pistoletta Ottimo Aspettate Che vada via Tutto qua Con il fumo Aia Aia Con il fumo Grandissimi Ok Io vi faccio Da tank Qua raga Aspettate Entriamo Ottimo 2 1 Bravi 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 Dov'è il tipo Ah è là dietro Raga è là dietro Io ti blocco Qua Tu mira Hai rotto Di fare Il giochino Bravo Bravissima I bar Anzi Si raga La mia prestazione È stata un po' Così Però il video Ve lo voglio Bello Ve lo voglio Tenere ugualmente Perché Oh Vedete Poi hanno sistemato Anche Con questo aggiornamento Lo scudo di montagna Hanno sistemato Un po' di cose Quindi Il video per oggi Si conclude qua Spero vi sia piaciuto Andiamo subito A vedere Un attimo I nostri Avversari Che grado erano E da niente male Io raga Vi saluto Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto Ribadisco Quindi guarda vi stare Tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti